Ciao a tutti, ecco a voi un nuovo video di Nell'Arte in questo video volevo realizzare come si viene chiamato un effetto gioiello che è appunto questo effetto e decoro che ho fatto sull'anulare che mi piace tantissimo e ho utilizzato anche un nuovo colore che ho acquistato semi permanente di Cristian Lates che è quello che mi ha comprato mio fratello in Ungheria seguite ora il tutorial, questo è un colore 72, è un rosso ciliegia mi è piaciuto veramente tantissimo come colore e so che andrà tantissimo perché ovviamente il rosso non tramonta mai e proprio questa tonalità neanche cosa fate? Lo dovete stendere a monocolore su tutte le unghie io prima ho fatto la ricostruzione, nel specifico ho fatto l'acrilico come sapete che sto utilizzando e testando, mettete la lampada a catalizzare facciamo due passate, ve lo ricordo cosa dovete fare? Allora, prendiamo un costruttore facciamo una pallina non troppo spessa nel punto dove appunto vogliamo posizionare il nostro gioiello ci sono tantissime varianti, tantissimi modi, ho deciso di fare questo prendiamo appunto un pennello a ventaglio, quello che è più comodo e mettiamo in mezzo delle paillette che daranno molta luce dopo che le paillette vanno in giro, prendiamo il nostro spot e cerchiamo di raggrupparle appunto dove avevamo messo il nostro costruttore per delineare un po' il meglio il tutto dopodiché cosa facciamo? Prendiamo il glitter e facciamo la stessa identica cosa cercando con lo spot poi di posizionarle nel punto dove abbiamo messo il costruttore scusate e delineiamo meglio e mettiamo il lampada a catalizzare cosa fate? Adesso io prendo un pad per togliere appunto i glitter in eccesso che erano in giro quando la superficie è a posto cosa dovete fare? riprendete il costruttore ne prendete tanto perché facciamo una bella pallina in rilievo per coprire il tutto perché questa pallina darà l'effetto di profondità e aumenterà la lucentezza di quello che abbiamo fatto per aumentare il tutto io cosa faccio? Dopo aver fatto la pallina prendo ancora i glitter e li butto diciamo dentro questa pallina questo decoro purtroppo viene fatto solo con i gel nel senso che se voi utilizzate gli smalti e basta non avete grosse possibilità di riuscire a farlo potete farlo col top coat però non viene così bello come appunto col gel mettete il lampada a catalizzare e sigillate il tutto provate lo stesso anche voi col top coat se usate gli smalti a vedere che effetto fa può venire anche comunque con i semi permanenti provate anche voi col top penso che venga rettifico dicendo che secondo me potrebbe venire passate anche voi il top adesso prendiamo il nero prendiamo un pennello a punta sottile e iniziamo a fare il decoro purtroppo come al solito io non ho visto che la mia mano era davanti al decoro quindi ve la spiego anche se vedrete alcuni tratti allora cosa dovete fare? prima di tutto dovete contornare il vostro giuliello che avete fatto con il nero righe molto sottili io utilizzo questo nero che è molto corposo molto denso che mi facilita ovviamente il decoro se utilizzate degli smalti e degli gel troppo liquidi verrà un disastro quindi cercate degli gel più densi per fare questo decoro cosa fate? dopo aver contornato facciamo degli rigori laterali che vanno in un verso sopra che vanno dell'altro verso e degli altri rigori sotto diciamo che state vedendo quello che sto facendo che è meglio ho avvicinato anche la videocamera perdevo un attimino la messa a fuoco ogni tanto però comunque il decoro state benissimo vedendo come si viene fatto l'importante è che tenete il pennello molto verticale rispetto all'unghia le mani ben salde sul tavolo perché cos'è meno il tremore che può venirvi sarà ridotto a meno cioè sarà meno poi a furia di far pratica sarà zero e fate appunto questo decoro poi per abberglielo un po' in fondo gli ho messo anche dei puntini e anche sopra nei due lati che adesso vedete gli ho messo dei puntini come vedete è un decoro in rilievo che dà molta luce è molto scenografico potete decidere di farlo sia col nero che col bianco a secondo dei vostri gusti a me piace più il bianco che il nero infatti mi piace ma non al 100% perché avrei preferito il bianco ma così denso non ce l'avevo e essendo decori in rilievo non andranno più sigillati per abbellire le altre unghie prendo sempre il nostro costruttore gli metto una puntina e gli attacco gli strass questa parte qua ovviamente potete farla anche benissimo col semi permanente con gli smalti attaccarlo con la colla insomma potete scegliere di utilizzare quello che volete sull'indice io vado a sigillare perché ovviamente sigillo tutte le unghie sigillo bene lo strass però per abbellirlo ancora un po' faccio dei decori anche qua in rilievo che non andranno poi sigillati perché se vuoi comunque sigillare mettete il sigillante mettete lampada meno secondi cioè tipo 10 secondi e fate il decoro poi rimettete lampada e finisce il tempo questo decoro rimarrà molto più aggrappato non si rovinerà non si toglierà e resterà nelle settimane quindi è una cosa molto importante dato che comunque abbiamo uno strato dispersivo io piuttosto che utilizzare il cleanser classico ci passo l'olio e lucido bene la superficie cosa meno oltre idratare le cuticole lucido la superficie e tolgo lo strato dispersivo che era rimasto sull'unghia questo è il risultato finale spero tanto che sia tutto chiaro che il mio video vi piaccia se avete domande, richieste o quant'altro scrivetele qua sotto se no al prossimo video un grosso bacio a tutte quante ciao grazie a tutti